Il futuro delle energie rinnovabili dai rifiuti umidi agli scarti delle aziende alimentari è una risorsa per la Sardegna che ancora paga la mancanza del metano. Ora grazie a un recente decreto ministeriali si aprono nuove strade. Maria Spigonardo. Da grave problema ambientale a preziosa risorsa. La strada è lunga ma per la Sardegna biogas e biometano possono davvero diventare una grande opportunità. In prima linea l'Università di Cagliari dove si sono ritrovati alcuni dei massimi esperti a livello nazionale. Da tutti i residui di tipo agricolo, di tipo agroalimentare dei nostri rifiuti urbani che sono una montagna enorme che oggi rappresentano solo un problema ambientale. Mentre potrebbero essere una grande opportunità di fonte energetica rinnovabile, pulita e soprattutto che ci darebbe anche una certa autonomia nell'approvvigionamento del metano. Tante le aziende sarde ma non solo che già sono scese in campo. Tra queste la cooperativa di Arborea. Loro saranno probabilmente la prima realtà sarda che inizierà a produrre biometano da utilizzare poi nei camion e negli automezzi privati partendo da quello che è uno scarto. Per la Sardegna che da sempre soffre la mancanza di metano le strade che si aprono sono numerose. Un settore molto interessante, molto importante che può creare posti di lavoro e consentirci anche di produrre energia pulita, locale, prodotta in Sardegna e delocalizzata. Cioè prodotta non con grandi impianti ma con piccoli impianti che servono, che producono energia per l'utenza che si trova nelle vicinanze.